Ciao, sono Luca e ti do il benvenuto sul mio canale YouTube. Qui ogni giorno puoi trovare un allenamento nuovo che potrai fare a casa, all'aperto, in albergo, in vacanza, quindi ovunque tu voglia. Ogni allenamento sarà adattato al tuo livello di fitness. Questo è possibile perché in ogni video ti spiegherò sia i movimenti dell'allenamento sia i movimenti che potrai sostituire in base alle tue capacità e alla tua attrezzatura. E se non hai attrezzatura, non ti preoccupare. Ti insegnerò ad usare quello che hai in casa per riuscire ad allenarti nella migliore maniera possibile. Quindi, cosa stai aspettando? Clicca sul pulsante rosso qui a fianco, iscriviti al canale ed iniziamo ad allenarci insieme.